12 carte da mettere in cerchio Più una al centro piazzato E da quest'ultima carta La tua lettura è iniziata È inquietante Sì, questo mazzo è un tantino strano Dove l'hai trovato? Dicono di non usare mai le carte di qualcun altro Chi se ne frega? Beh, che comincia? Tu segui ogni regola e non cercare guardia Chi c'è? E il mazzo di un altro non usare mai Che diavolo Viene in vita Il mago La papissa o la morte Chi tra loro pedali Quando si compirà la tua sorte? Chi è il prossimo? Andiamo! Non vediamo qui! Grazie per la visione!